Il Movimento 5 Stelle di Pescara insieme a quelli di Spoltore e Montesilvano si propone di essere capofila per un pacchetto di provvedimenti per la disabilità e per creare delle istituzioni che siano in grado di venire incontro a questi cittadini. Sì, vogliamo portare al centro del dibattito del cittadino, quindi politico cittadino, il tema dell'accessibilità e della disabilità. Lo facciamo con i colleghi di Montesilvano e di Spoltore e lo faremo per i prossimi due mesi con Gazebo in piazza e raccolta firme proprio per supportare le nostre iniziative e sensibilizzare la cittadinanza su questo tema. Il pacchetto è piuttosto articolato e richiede ad esempio l'individuazione del disability manager, ossia una figura interna al comune che possa rispondere ai cittadini, alle domande dei cittadini con disabilità in merito alle competenze che riguardano il comune. Chiediamo l'istituzione del garante dei disabili, cioè un punto di riferimento che possa per esempio segnalare ritardi, negligenze rispetto all'attività amministrativa, sempre ovviamente nell'ambito della disabilità. Poi chiediamo che venga data piena attuazione alla consulta sociale che si occupa anche dei temi della disabilità e chiediamo poi inoltre che venga finalmente portata avanti due proposte che noi abbiamo presentato, una addirittura quasi due anni fa sull'eliminazione delle barriere architettoniche. Abbiamo anche suggerito il modo per trovare i fondi necessari, quindi prendendoli dalle sanzioni delle fototrappole sui rifiuti lasciati abusivamente e poi chiediamo che venga finalmente eliminato il pagamento dell'occupazione del suolo pubblico che il comune di Pescara prevede per chi voglia istituire rampe, scivoli o pedane che consentano l'accessibilità. Un aspetto che deve essere assolutamente eliminato, sul quale molti sono d'accordo e che sollecitiamo all'approvazione.